Eccoci bentornati su GoGames, siamo su Prince of Persia della Scroo e nella scorsa puntata ci siamo salutati appunto qui abbiamo abbattuto il boss Menolias e adesso ci spostiamo e andiamo, aspettate che mi devo ricordare, villaggio dei pirati, si, ci teletrasportiamo lì. Ok, dobbiamo andare di qua, in teoria io penso che dobbiamo proseguire da questo lato e andare di qua, credo, vediamo se è così, se no, se siamo fatti un giro, come al solito insomma, qui possiamo scendere, arrivare giù, qui se non sapete come rompere questa porta, semplicemente fate così e gli tirate il barile addosso, così esplode e tira giù il muro, questo l'ho fatto per fare la secondaria qui del Capitano dei Pirati, la trovate nella playlist delle guide, mi raccomando, dategli un'occhiata, potete già completarla a questo punto della storia. Provare 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 questo appunto Abbiamo sbloccato un trofeo Non ho idea di quale trofeo noi abbiamo sbloccato Ma se è ciucciato anche... Ah no, eccoli Ok, ci servono sorti Abbiamo creato il panico, aspettate un secondo, voglio controllare una cosa però Perfetto, abbiamo eliminato cinque nemici, lanciandoli negli spuntoni Ci piace E in questa zona ci andiamo dopo Proviamo ad andare Uh, agricolo Ok, qui siamo dal Capitano, andiamo dritti Eh Era una trappola Va bene Chi è questo qui? Oh Pazza Tira dei bombazzoni assurdi Eh, non so Ed è una trappola Esatto Perfetto Perfetto A breve Un'altra meravigliosa boss fight Cosa ci abbiamo qua su? Andiamo Amo arrugginito E ci sta Il luogo è consono Ok, possiamo andare dritti Ma c'è sarà un arberello Giui notto Eh già Possibile Time so far seems to be on my side How long have you been here? It's a fog to me, friend Look at the eru In this place, it could have happened yesterday Are you like me? Always see the bright side When the land began to rot The city crum It'll get better I told her But as days wore off Then, one morning My wife and kids were So why did you stay? It's our home They'll return soon Where have the fish gone? Perhaps from Ok Ora qui Mare in tempesta Mamma mia Se qui si riattiva il tempo Panico Ok Di qua abbiamo un alberello Ottimo Vai Vai Ah io Ma qui io penso che no Qui ci provo ma Ah si cammina Uh Taci vostra Chi è questa? Signor Signor A me si laser Non mi piacciono Chi è qua? Eh Che deve recepere Signora Abbia pazienza Abbiamo premura Fatemi vedere Non so Forse Due 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 Vieni qua Vieni Ottimo Ahio Ahio Questa è proprio fermato il tempo Vediamo Vieni qua E lì non si può scendere Non è chiarissima alle volte la mappa Qui sono io Oh viaggio veloce E' giusto Perfetto Quindi Ah non si può da questo lato Aio Ok Oddio ma che siete che schifo Quanti siete Troppi siete No Buoni tutti Scusate ma Sentivo un attimo chiuso E basta Sputazzà Niente Sono cattivissimi sti robbi Ok Ok Mamma mia quanta cattiveria Qui siamo chiusi Quindi dobbiamo andare su Mettine da principessa Ok Oh Ok Beh però scusate Ci siamo Perché no Vediamo che dice Vediamo che dice Interessante Molto interessante Io non ho idea di dove dobbiamo andare Proviamo ad andare in giù Sapevo io che c'era Sta Oggettona No 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 Eh signora mia Che lei però Sì però Così è Niente Eh Ok Quindi di qua È chiuso Siamo avanti Abbiamo dei soldoni Ah Questi Dobbiamo saltare Così Così E siamo arrivati di qua Mamma mia E quando ci arrivamo Danza in aria Ho sbloccato un altro trofeo Dopo guardo Che trofeo è E vi faccio Sapere Meno a questi qua Ho vatti fuori Sì Di quello Arriviamo al nostro alberello Ok E ora controllo Cosa abbiamo sbloccato Ok Abbiamo sbloccato Semplicemente Il trofeo Di eliminare Trenta nemici in aria Niente di Così Difficoltoso Dobbiamo andare su Aspettate Poi andrà a vedere Ci riusciamo Ok Ok Secondo me Immaginavo che da lì non si potesse passare Cacchio Fari cacchio Eh ma Fa un tempismo che Che tolo di cuo fa Ok abbiamo trovato la ragazzina Dacci la mappa Molto più facile se abbiamo la mappa Andiamo proprio Scialli Ok E qui dobbiamo andare dritti Ho ragione Però qui si può continuare su Che c'è su Eh che sia proprio Oddio Che ha fatto Sto schiantata Costarello eh Cacchio Secondo me Dovremmo usare anche Un pochino La questione Arco E niente Riprovo l'ultima volta Poi Per caso Se fa dopo Voglio Perdere troppo tempo Eh sto cazzo Basta Basta Lo facciamo in un altro momento Abbiamo preso la mappa Stavamo andando Per la strada giusta Direi di continuare Non ci siamo lì Dai E' praticamente chiuso Sì Dobbiamo solo arrivare lassù Ma va bene Lo facciamo Tacci tu Tacci tu Guarda questo Adesso siamo elettrici Dov'è l'alberello? Ce l'abbiamo qua vicino Io direi di farci una capatina Ecco qui Posto Oddio le fruste No perché non l'ho visto Ma te Ho capito io Ciao Ciao è stato bello Vediamo dove siamo Io lo so che Ogni tre per due Apro la mappa Ma Vai via Uno in meno Via Due in meno Stavo per schiantare Malissimo Signore Vada Guarda Andennata Bebio Accordi dell'arco No Ok Ok Oh In realtà che male Che fanno Ma siete pazzi Via Questo continua Inseguirci Non abbiamo pinta Di niente Molla L'invadenza Che ci abbiamo Qui Oh Ci mancano Altri due Però Di niente Vai via Questi ci piaccio Ok Poco cattive Queste tizie Fantastico Vai così C'ho visto Eh Poi ci vede Non ci fa vedere niente Perfetto Giovani Direi che con questa puntata Ci possiamo fermare qui Come al solito Grazie mille E alla prossima